Dubai o Portogallo? Qual è la scelta migliore? Qual è il paese dove trasferirsi nel 2023? Lo vediamo dopo la sigla. Ciao, sono Luca Tagliallatele e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se non l'hai ancora fatto ti invito a iscriverti al canale per rimanere connesso con le notifiche e soprattutto di lasciarmi un meraviglioso like. Oggi parliamo di Portogallo e Dubai e li mettiamo a confronto. Queste sono alcune delle destinazioni più gettonate da alcuni anni ed è una scelta quasi naturale ormai per voi che lavorate sul web domandarsi dove trasferirsi. Tecnicamente la scelta quando si guarda oltre i confini dell'Unione Europea 8 volte su 10 richiede su Dubai, quando si guarda all'interno dei confini dell'Unione Europea molto spesso si pensa al Portogallo. Non sono le uniche destinazioni ma sono sicuramente le più gettonate. Sono oggi qui per metterle un attimino a confronto e soprattutto per darti una notizia fondamentale che ti sconvolgerà e ti cambierà la vita sotto un profilo imprenditoriale. Tra un secondo arriviamo a questa grande rivelazione. Ma partiamo chiaramente dal punto di partenza ovviamente che è la qualità della vita. Non mi stancherò mai di ripeterlo. Che cosa cerchi, che cosa vuoi, come ti piacerebbe trascorrere il tempo durante le tue giornate. Perché se cerchi un paese di lingua più simile, come dire, di culturalmente più simile all'Italia, evidentemente il Portogallo fa il caso tuo. Se invece sei pronto ad un cambio, come dire, ad una rottura, allora ti conviene probabilmente pensare a Dubai, una grossa metropole che oggi ospita circa 4 milioni di abitanti e che ha in programma di arrivare addirittura fino a 10 milioni di abitanti. Quindi sono due pesi, due misure, due velocità completamente differenti. Il calmo Portogallo, dove ci troviamo oggi per girare questo splendido video, o la frenetica Dubai, che è una metropoli a tutti gli effetti, dove potresti rimanere bloccato nel traffico per oltre 60 minuti per arrivare da Business Bay a Marina. A me succede sempre. Tra l'altro settimana prossima mi accadrà di nuovo perché sarò lì nuovamente. Evidentemente sono due giurisdizioni con cui lavoro molto e che conosco profondamente, anche perché trascorro lunghissimi periodi di tempo in entrambe. La qualità della vita è completamente differente, quindi questa è una scelta che puoi fare soltanto da solo. Ma la notizia che ti voglio dare e che cambiava la tua vita imprenditoriale è che da oggi, in realtà già da anni per noi pianificatori fiscali, è possibile lavorare con entrambe le giurisdizioni. E cioè è possibile pensare di avere una residenza fiscale in Portogallo con una società a Dubai e viceversa, questa regola è valida nelle pianificazioni fiscali in generale, non solo con queste due giurisdizioni. Da qualche anno però ci sono, come dire, delle novità normative e di prassi che permettono a queste due giurisdizioni di incastrarsi. Quindi per chi non è pronto a scegliere o per chi vuole avere il meglio di entrambe, probabilmente esiste la possibilità di farlo. Soprattutto quando andiamo a maneggiare giurisdizioni che si trovano all'interno dell'Unione Europea insieme a giurisdizioni che sono invece blacklist, con tutto quello che poi significa blacklist e non è questo il video per spiegarlo, ma evidentemente sono due giurisdizioni lontane, sono un po' il sole e la luna e allora se, come dire, metti mano alla cosa senza un professionista poi fatti veramente male, anche perché ricordiamo che il Portogallo appartenendo all'Unione Europea deve rispettare un milione di normative, Dubai ne deve rispettare un po' di meno. Soprattutto se è un business internazionale e quindi magari compri da fornitore in un mercato, vendi da fornitore in altri mercati, ne aggredisci di nuovi, ti trovi in una giurisdizione a livello personale, la tua società si trova in altre giurisdizioni, è chiaro che vanno uniti i puntini, unire i puntini non è cosa per tutti. Oggi è possibile considerare di unire queste due giurisdizioni, chiaramente devono esserci due cose su tutti, e cioè una vada ragione economica, non posso farlo a prescindere, e della sostanza economica, quindi quando vado a creare una società non deve essere una scatola vuota, altrimenti arriva il fisco e come il lupo cattivo soffia sulla casa dei porcellini e la casa crolla. Io sono Luca Taglialatela, spero di averti dato ulteriori spunti di riflessione in questa splendida giornata di primavera, a dubbi e approfondimenti clicca il link in descrizione. Noi ci rivediamo nel prossimo video.